ciao a tutti e benvenuti sullele king tv e buona domenica a tutti quanti ragazzi quest'oggi come tutte le domeniche vi saluterò con le figurine di calciatori questa volta c'è francia 2019 la prossima settimana ci sarà rotto euro 2020 quindi prenotatevi qui sotto nei commenti scrivendo la squadra con cui volete essere salutati o altrimenti adesso una richiesta per la prima figurina spacchettata e sarà accontentato la mia figurina spacchettata ma potete fare anche richieste tipo nel secondo pacchetto terzo pacchetto ultima figurina prima figurina seconda figurina fate come volete ragazzi e io vi saluterò me lo scrivo me l'appunto c'ho tutti i nomi qui scritti a fianco e piano piano vi saluterò tutti quanti quindi per chi è la prima volta che vede quel video di lele king tv iscrivete al canale attivate la campanella lasciate un bel like a questo video e commentate per essere salutati la prossima domenica allora ragazzi mi raccomando mi raccomando perché mi sono arrivate la mentele che alcune persone non lo salutate poi andando a ricontrollare il video ragazzi l'avevo salutate quindi non andate avanti con il video se volete sentire il saluto godetevelo piano piano tutto quanto e poi magari se è successo che mi sono scordato qualche persona la soluterò la settimana prossima allora iniziamo subito questo spacchettamento più faremo cielo mi manca tra poco inizierà questo mondiale ragazzi che cercheremo da seguire insieme e anche perché con calcio da bar per chi l'ha seguito se vi piace questa questa questo format che sto portando sul canale cioè parlare di calcio sia in video semplice ma soprattutto in live apposta si chiama calcio da bar perché possiamo praticamente interagire come amici al bar parlando di calcio se vi piace fatemelo sapere qui sotto anche se avete dei commenti che magari qualcosa vorreste migliorare in questo format fatemelo sapere siamo aperti a diciamo miglioramenti in corso non c'è nessunissimo problema ci mancherebbe altro iniziamo subito lo spacchettamento apriamo la prima bustina alla prima figurina è una calciatrice degli stati uniti ecco qua crystal dan e salutiamo rita rinaldini ciao rita rinaldini che ha chiesto proprio di essere salutata con la prima figurina spacchettata ed è questa poi abbiamo rita chi ce velu della nigeria questa mi pare che ce l'ho ragazzi io non vorrei insistere ma ce l'ho poi abbiamo lo stadio non metto a fuoco ecco vanessa santana argentina eccola qui e salutiamo devi bocchini ciao devi e poi abbiamo cadiscia shab della giamaica e salutiamo mauro che mi ha chiesto di salutarlo dicendo soltanto mauro non il nickname quindi lo salutiamo così apriamo l'altra bustina ragazzi ancora non abbiamo trovato nessuna figurina dell'italia me l'avete chiesto tanti di essere salutati con la figurina dell'italia vediamo se esce fuori del canada kateisha buchanan della francia katitau diani o diani forse più diani essendo francese ragazzi e salutiamo perché con la francia me l'avete chiesto qualcuno benox bonni ciao benox che segui sempre il canale quindi ragazzi io vi ringrazio tutti quelli che seguono sempre il canale e vedo qualsiasi video veramente vi ringrazio di cuore alessandro ore che un altro che sempre partecipe ciao alessandro buona domenica a tutti quanti lo ripeto ancora e poi abbiamo sempre del canada alicia capman poi abbiamo del cameron aurele a ora e salutiamo luis peguini ciao luis e poi abbiamo ong egli terzo pacchetto spero che sia quello buono che esce fuori una figurina dell'italia invece no del brasile la prima è camila ecco la camila del brasile e con camila salutiamo french gv ciao french poi abbiamo dell'australia ellie carpenter del giappone gui assegnava la segnava e salutiamo maria grazia denigris ciao maria grazia poi abbiamo trudy carter della giamaica e wild borrisa della norvegia e salutiamo enzo battistini ciao enzo ancora uscita fuori il suo figlio nell'italia ragazzi mamma mia qui abbiamo una spagnola abbiamo patri guiarro salutiamo tamiti ciao danni poi abbiamo del giappone rin sumida e salutiamo androgea 74 poi abbiamo rica masuia e salutiamo christian latta ragazzi christian latta che vuole essere salutato l'olanda ma l'ho saltato ragazzi adesso vediamo se esce fuori la figura dell'olanda lo risolutiamo comunque christian latta che anche lui è molto attaccato al canale quindi che ringraziamo e salutiamo e che vorrebbe andare al campo estivo con la iso ardi cara iso ardi mi raccomando porta questo ragazzo al campo estivo allora poi abbiamo jade more e salutiamo matteo ci ciao matteo e poi abbiamo viki l'osata della spagna eccola qui mancano soltanto quelli voglio essere salutati con l'italia se non lo troviamo li saluteremo lo stesso casomai con l'ultima figurina poi abbiamo della svezia caroline seger la formazione della corea lo scudetto della norvegia eccolo lo metto a fuoco eccolo qui giordi uitema del canada e ali rilei della nuova zelanda e quindi salutiamo tutti quelli che hanno chiesto essere salutati con l'italia c'è debora esposito ciao debora c'è matteo riboloni che è un gran fan di ludovica pagani e francesco lopez adesso ragazzi sistemiamo le figurine e faremo il cielo mi manca eccoci qua siamo pronti a iniziare la prima figurina e nostalio con il numero 21 ecco qui e ci manca poi abbiamo la numero 38 della francia altra mancante poi abbiamo la 44 che della corea che è la formazione poi la 46 ci manca sempre della corea poi abbiamo la 62 che è lo scudetto della norvegia la norvegia abbiamo parecchie figurine abbiamo parecchie figurine della norvegia e sempre della norvegia abbiamo la numero 70 che ci manca ecco poi andiamo alla nigeria 91 ce l'abbiamo e doppione della germania abbiamo trovato nessuna figurina della cina anche stiamo proprio senza figurine la cina della spagna abbiamo due calciatrici abbiamo trovato la 149 che ci manca e la 150 che è uguale ci manca sud africa niente dobbiamo arrivare alla 180 che ce l'abbiamo dell'australia quindi altro doppione dell'italia abbiamo trovato niente ne lasciamo perdere l'italia cina stiamo senza figurine 221 camila del brasile ci manca poi 249 della giamaica altra mancante e 250 sempre la giamaica anche lei ci manca poi andiamo all'inghilterra dove abbiamo la 265 della scozia niente arriviamo all'argentina eccola qui abbiamo la 299 vanessa santana poi abbiamo del giappone la 319 altro doppione e la 322 che invece ci manca e la 324 altra mancante il canada non avevamo neanche una figurina abbiamo trovato 2 333 che logicamente ci manca visto che non c'è neanche una attaccata e 334 e addirittura abbiamo trovato 3 perché abbiamo anche la 343 che va qui ragazzi una l'ho attaccata completamente storta di figurina che era 343 e vabbè non fa niente passiamoci sopra poi andiamo al camerun dove abbiamo la 351 374 374 ci manca della nuova zelanda 409 409 invece degli stati uniti e poi per chiudere saltiamo la thailandia saltiamo il cile e arriviamo alla svezia dove abbiamo la 472 che ci manca ecco qui e abbiamo finito con questo video ragazzi quindi io vi saluto vi mando un bacione un abbraccio e vi lascerò un cuoricino a ogni vostro commento ciao a tutti grazie 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 grazie